Con molto piacere sono venuta questa sera ad inaugurare la Sagra della Panissa e così a dare l'avvio alla stagione delle sagre perché questa è la prima sagra molto importante per Vercelli che è arrivata già alla 24esima edizione per cui mi fa molto piacere in questo mio primo anno di attività di sindaco essere presente ma dopo la Sagra della Panissa ci saranno molte altre sagre della città di Vercelli a cui sicuramente intendo partecipare perché ritengo che la Sagra sia un momento importante per i cittadini perché è un momento di valorizzazione di quelle che sono le nostre potenzialità, di quelle che sono i nostri territori, di quelle che sono i nostri rioni, di quelle che sono le nostre caratteristiche anche in ambito culinario perché la Panissa che è il denominatore che sta alla base di questa iniziativa è per noi importante, certamente abbinata poi ad eventi culturali, ho appena visitato la mostra fotografica che rappresenta la storia un po' della città di Vercelli, è molto interessante, è molto formativo vedere come era Vercelli nei decenni, nel secolo scorso ed è bello anche vedere quelle che sono le opere artistiche di un gruppo di pittori vercellesi per cui abbinare tutta la parte culinaria ad una parte di espressione artistica dei vercellesi abbinata a momenti poi musicali ritengo sia un buon mix per passare le nostre serate.